Il rumore della porta che sbatteva mi è rimasto in testa per anni. Continuavano ad arrivare medici, entravano e uscivano, tutti quanti. A un certo punto è entrato un dottore, ha detto la mamma non ce l'ha fatta. Ma il bambino è salvo, ha solo qualche problema. Chi si è preso cura di suo figlio? Io non l'ho nemmeno voluto vedere. L'ho incontrato per la prima volta tre giorni fa. Quanti anni hai stasera? Quanti bene dai, bambini? Qualche non ne vuoi più dire? Forse non ne vuoi tradire. Ti ho pensato sai stasera. Ti ho pensato poi la sfiga. Mi ha telefonato lei per prima. Non ho saputo di chi no. Lo sai che storia c'è. Duello, 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 duello. Duello, duello! Duello, duello. Grazie a tutti